Sono Sergio Novello, sono l'amministratore delegato di Sonepar Italia. Sonepar è il più grande gruppo al mondo di distribuzione di materiale elettrico e in Italia Sonepar Italia è il più grande distributore di materiale elettrico in Italia. Materiale elettrico quindi a tutti i professionisti del settore, installatori, operatori, end user, utilities, noi forniamo prodotti e servizi relativi a questo mondo. La storia di Sonepar in Italia nasce a Padova nel 1988. Perché Padova? Perché Sonepar acquisì l'allora elettro-ingross per tattica, per scelta, consapevolmente. Chi può dirlo? Quello che noi sappiamo è che da allora Padova è diventata il fulcro della strategia di una multinazionale da 22 miliardi di euro, la più grande del mondo nel suo settore e da Padova sono nate poi tutte le iniziative di distribuzione che hanno portato Sonepar a coprire l'intero territorio nazionale. Quindi Padova come fulcro dell'azione di questo grande distributore di materiale elettrico.